Ciao a tutti, io sono Anna Rita dalla provincia di Avellino. Ho contattato Rossella perché ero bloccata in situazioni negative che non riuscivo né a spiegarmi né tantomeno a risolvere. Mi sentivo incastrata in sentimenti di rabbia, di rancore, impotenza che mi creavano un profondo malessere. Mi percepivo incapace a risolvere situazioni che percepivo pesanti e veramente più grandi di me. Tramite il susseguirsi delle sessioni con Rossella ho realmente sciolto le emozioni che mi creavano sofferenza e dolore. Con mio profondo stupore siamo giunte a ricordi antichissimi, a memorie veramente lontane. Abbiamo lavorato sulle resistenze, sulle false credenze, sui blocchi e su tutte quelle catene che in qualche modo mi tenevano bloccata in situazioni di dolore e non mi facevano vivere pienamente la felicità. Ma soprattutto adesso mi sento lucida per trovare soluzioni e vedere realmente le situazioni per ciò che sono. Certo, ammetto che è stato doloroso lasciare andare certe situazioni, ma adesso ho capito che dovevano terminare per il mio massimo bene, per la mia crescita, per andare avanti nel mio percorso di consapevolezza. Noi spesso ci aggrappiamo a ciò che non ci fa bene per paura del cambiamento. Ma tramite queste sessioni ho acquisito il coraggio per lasciare andare e vi assicuro che a volte ci leghiamo talmente tanto alla sofferenza che è anche difficile lasciarla andare. In me si è creato un vuoto, ma un vuoto bello, un vuoto in cui realmente ho sentito lo spazio per accogliere nuove cose, nuove esperienze, nuove situazioni, nuove avventure, nuove sfide. Quindi veramente ringrazio di cuore Rossella, che è stata dolcissima, ma anche molto preparata e molto competente. Mi è stata accanto anche oltre le sessioni, standomi vicina anche in momenti difficili, ridandomi sempre una parola di conforto e rispondendo a volte quasi immediatamente alle mie richieste di sostegno. La seguo anche su YouTube perché i suoi video sono interessantissimi e stanno ampliando veramente le mie conoscenze su numerosi argomenti sia di crescita personale, sia di consapevolezza. Rossella mi ha lasciato dentro tanta luce, tanta grinta e coraggio. Quindi grazie Rossella perché mi hai aiutata a sciogliere i nodi che mi tenevano legata alla sofferenza. Ti abbraccio forte forte e la vita è bella anche se a volte fa male. Yes, yes, yes! Ciao, ti abbraccio!